Bellissima iniziativa perché l'educazione e il rispetto si insegnano ai bimbi e quindi per avere degli adulti educati magari che non guidino ubriachi sicuramente, che si fermino in caso di incidente sicuramente, ma anche che rispettino il prossimo al semaforo che non parcheggiano nel posto dei disabili, bisogna partire da giovani e quindi ottima iniziativa, bisognerebbe finanziare con più convinzione questo tipo di educazione al rispetto stradale anche nelle scuole, poi aspettiamo questo benedetto reato di omicidio stradale che sicuramente metterebbe un po' più di paura a qualche disgraziato che c'è in giro.